Ciao a tutti, oggi prepareremo la ciambella allo yogurt. Il tempo di preparazione della ricetta è di 50 minuti circa. Ingredienti sono farina di tipo 00, yogurt alla vaniglia, zucchero semolato, olio di semi di girasole, uova, gramma arnierge facoltativo, lievito per dolci vanigliato, sale e una fiala da roma di vaniglia. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero e lo facciamo polverizzare per 10 secondi. a velocità 10. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere l'olio. le uova, la farina, lo yogurt alla vaniglia, il sale, l'aroma di vaniglia, il gran marniere che è facoltativo ed il lievito. Ed azionare il bimbi per 4 minuti a velocità 4. Il composto è pronto. Trasferire in uno stampa a ciambella da 24 cm ben imburrato. Cuocere in forno per riscaldato statico a 180 gradi per 40-45 minuti circa. Fare sempre la prova a stecchino. La torta è cotta. Lasciamola raffreddare del tutto prima di rimuoverla dallo stampo. Ciambella allo yogurt. Grazie e alla prossima ricetta. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.